Una nuova diffida indirizzata alla soprintendenza di Salerno, ancora una volta presentata da Italia Nostra e dal comitato No Crescent, con un esposto che finisce direttamente sul tavolo del procuratore di Salerno, Corrado Lembo. L'opera, ideata dall'archistarbo Fil, torna nuovamente a far discutere, sollevando l'ennesima presa di posizione contraria da parte delle realtà che stanno conducendo da tempo una dura battaglia. Nel mirino, come detto, finisce il soprintendente Francesca Casule, la quale, secondo l'accusa di Italia Nostra e comitato, si pone in continuità con i predecessori, in particolare a far discutere la mancata contestazione dell'assenza del parere paesaggistico relativo al permesso di costruire rilasciato nell'ormai lontano 2011. L'esposto è stato presentato in procura, poiché l'intera opera sarebbe di fatto abusiva in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa. E dunque, per Comitato e Italia Nostra, la strada da percorrere sarebbe una sola, demolire l'emiciclo al fine di ripristinare la legalità violata, hanno scritto nella diffida messa nero su bianco.